La Regione è un tesoretto di un miliardo che va speso entro il 2027 con i suoi programmi FES e FESTRA per un sistema economico locale forte. Si è parlato anche di questo nel tour nazionale di EFI, Ecosistema Formazione Italia, che ha fatto tappa all'Aquila in una mattinata che ha visto presenze importanti, come quella del sottosegretario alle imprese del Made in Italy, Fausta Bergamotto, il Presidente della Regione Marco Marsiglio, il Senatore Guido Liris. In primo piano gli obiettivi delle politiche comunitarie da realizzare entro il 2027 relativamente a formazione e occupazione. Il sottosegretario Bergamotto ha parlato del nuovo modello di impresa. Il binomio formazione e occupazione è un binomio di grandissima importanza, soprattutto in questo momento. È un momento storico in cui tutto il sistema produttivo è in riforma. Siamo nella quinta rivoluzione industriale e la doppia transizione green e digitale ci impongono tante innovazioni, le dobbiamo fare, abbiamo bisogno delle competenze giuste e in questa fase storica dobbiamo cercare di superare il mismatch, cioè il disallineamento tra domande e offerte di lavoro. Questo richiede impegno e richiede anche un investimento importante. A fare gli onori di casa il Sindaco del Capoluogo Pierluigi Biondi con un parterre formato da decisori politici, direttori, dirigenti e organismi di formazione che si sono confrontati appunto sulle strategie di utilizzo di un tesoretto da un miliardo che la regione mette a disposizione, come si diceva, per il sistema economico locale, per politiche di innovazione e ricerca, per la competitività, la connettività digitale, l'energia e l'ambiente, la mobilità sostenibile, lo sviluppo e la promozione territoriale, l'occupazione e l'istruzione, formazione e competenze, inclusione e protezione sociale. Obiettivo del meeting è stato anche rendere misurabili i risultati per capire cosa nascerà nel concreto da questo grande investimento. Credo che in Abruzzo si stia facendo un lavoro importante perché la programmazione di queste risorse è avvenuta attraverso un percorso partecipativo, ci sono dei progetti importanti che il Comune dell'Aquila ha sottoposto all'attenzione della regione, dobbiamo lavorare molto nel rafforzamento della capacità degli enti di spendere, ma questo si può fare solamente se si hanno risorse umane adeguatamente preparate, adeguatamente formate. Grazie. 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 Grazie.